Buonasera a tutti, io sono Patrizia Warnier e in questo 21 marzo 2020, che è la giornata della poesia, anche quest'anno è la giornata della poesia, io mi sento onorata e felice di partecipare al Festival Internazionale della Poesia di Milano e per questa occasione vi leggerò un mio scritto che risale in realtà a novembre dell'anno scorso, il 25 novembre, lo scrissi in un'occasione particolare ma mi sembra che sia quanto mai adatto e rientri bene in questo periodo purtroppo drammatico che stiamo vivendo. Ci vorrebbe un abbraccio, ci vorrebbe un abbraccio di quelli che rimettono tutto a posto, uno di quelli che dentro ti ci perdi e non ti stacchi più anche se è tardi. Ci vorrebbero carne e pelle qui davanti per raccoglierle senza condizioni, come non han potuto le parole che han seguito flussi inospitali. Ci vorrebbe il sole del mattino che faccia luce giù dentro al profondo ma dolcemente, come lui è capace, risorgendo dal buio della notte. Ci vorrebbero occhi dentro agli occhi per dirsi tutto quanto fino in fondo per chiarire ciò che è stato infranto e riavviare i passi del cammino. Grazie.